E come preannunciato in apertura di programma, stamattina vogliamo parlare di una figura eccezionale di donna, una figura eccezionale di santità, una figura eccezionale di laica. Sto parlando di Armida Barelli e questa mattina vogliamo parlarne con Barbara Pandolfi che è la vice postulatrice della causa di beatificazione proprio della Barelli. Buongiorno e bentrovata, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Bene Barbara, mentre chiedo alla regia di darmi un po' più di audio in studio vogliamo parlare proprio di questa figura significativa, una donna che ha lasciato una traccia significativa non solo nella chiesa ma anche nella società italiana così perturbata tra la fine dell'Ottocento e il Novecento. Le chiederei subito Barbara di tracciarci un brevissimo profilo biografico per spiegarci chi è stata Armida Barelli. Sì, Armida Barelli nasce a Milano in una famiglia della portugia milanese che era assegnata dai valori risorgimentali di un'unità d'Italia che era appena realizzata, era appena stata realizzata. Nasce nel 1882 e non viene educata alla fede. Però nel collegio svizzero dove viene mandata a studiare perché è il collegio più in vista per le ragazze di quel tempo, per le famiglie ricche di quel tempo, Armida Barelli incontra la fede. Incontra soprattutto l'immagine e il significato teologico del Sacro Cuore come amore profondo che cambia e trasforma la vita e non delude. Da questo momento Armida Barelli sarà assegnata da un cammino straordinario di fede, da un cammino straordinario dal punto di vista umano anche come donna. Infatti inizierà un percorso non facile di ricerca inserendosi nella società italiana di quel tempo che poi appunto vedrà lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, quindi tutte le problematiche che seguono questa esperienza, ma lei lo viverà come un'esperienza profonda di fede ascoltando la parola del Papa che la chiama a fondare la gioventù femminile in tutta Italia e quindi a occuparsi della formazione delle donne in quel periodo, ascoltando il bisogno profondo di dare vita e cultura e di permettere ai cristiani italiani di poter dialogare con la scienza del tempo insieme a Padre Gemelli danno vita all'Università Cattolica del Sacro Cuore e arrivando poi alla sua personale, specifica esperienza vocazionale dando vita in questo caso a uno dei primi istituti secolari cioè l'idea della consacrazione nel mondo senza entrare in un convento, rimanendo laici ma pienamente consacrati attraverso i tre consigli evangelici. Armida Barelli muore a 70 anni dopo una lunga malattia il 15 agosto del 1952. È una figura davvero bellissima, poliedrica, vorrei usare questo aggettivo perché sono tante le sfaccettature che riguardano la vita di Armida Barelli che noi purtroppo per mancanza di tempo non possiamo approfondire ma che davvero restituiscono poi la bellezza e la profondità appunto di Armida. C'è una definizione Barbara che mi piace molto preparando questa intervista che ho trovato su Armida Barelli recita Armida Barelli è una donna con la visione del futuro, ecco una originale testimonianza anche di quella che è una santità che ritroviamo in tutti i giorni della nostra vita, una santità laicale feriale, ecco per usare un termine caro a Papa Francesco. Vuole spiegarci i motivi di questa definizione? Sì, Armida Barelli è una donna che vive nella fiducia, fiducia in Dio ma fiducia anche negli altri e quindi fiducia anche nel futuro. In un tempo nel quale le donne non escono di casa, non parlano in pubblico, non si impegnano nella vita sociale e politica e non hanno diritto di voto Armida Barelli vede più lontano, vede un impegno per le donne, una prospettiva nuova per le donne di impegni e di vita e dà fiducia alle giovani. La fiducia che è la sua arma più forte, la fede, diventa fiducia negli altri e fiducia nel futuro. E dalla fede Armida Barelli incomincia a pensare in grande, a osare quello che non avrebbe mai neppure pensato per la sua vita perché comunque Armida è una donna del suo tempo, anche lei non educata a prendere posizione in pubblico, a parlare di fronte a migliaia di persone eppure la fede gli dà questo coraggio. La sua visione del futuro è la visione appunto che nasce dall'esperienza di fede ma nasce anche dalla fiducia nei giovani, negli uomini e nelle donne del suo tempo, nella storia perché in questa storia riconosce la presenza di Dio, l'azione di Dio. E quindi è capace di tracciare delle linee che porteranno fino al concilio Vaticano II, che lei non vedrà perché muore nel 1952 però tutto l'impegno dei laici, tutta la valorizzazione anche della storia, questo dialogo tra la Chiesa e la storia, tra la fede e il mondo per Armida Barelli diventa un'esperienza di apertura e nasce appunto dalla sua fiducia profonda nel suo tempo. Certo, lei Barbara ha parlato del diritto di voto, Armida si impegnò a fondo davvero con tutta se stessa potremmo dire perché le donne in Italia avessero quel riconoscimento civile che poi con il referendum nello specifico del 46 si è concretizzato quindi con l'apertura del voto alle donne e quindi anche perché poi Armida ha preso coscienza del fatto che le donne devono essere protagoniste nella società civile del loro impegno, del loro valore, del loro ruolo se così possiamo dire, anche se è una parola che non ci piace particolarmente. Con quali argomenti Armida poi ha portato avanti questo impegno forte che vediamo concretizzarsi nella vita del 2023 potremmo dire così? Sì, sicuramente per Armida Barelli la formazione è un elemento prioritario, principale. Pensate che a quel tempo nella gioventù femminile entrano persone giovani di tutti i ceti sociali, molte di loro sono anche analfabete e all'interno della gioventù femminile di azione cattolica imparano non solo a leggere e scrivere ma imparano anche a possedere la parola per dirsi forse è la prima esperienza in cui le donne a un livello anche popolare, non solo alcune eccezioni, possono dire se stesse Armida Barelli dà fiducia e nello stesso tempo aiuta queste giovani ad avere autostima, a credere in se stesse nel loro valore, nelle loro potenzialità e quindi in questo modo già prepara quello che sarà poi un'esperienza fondamentale il primo voto in Italia dato alle donne, un'esperienza che lei stessa sosterrà viaggiando per tutta Italia che lei stessa segnalerà come fondamentale e importante perché dopo tantissimi secoli le donne possono finalmente esprimersi anche nell'ambito politico oltre che nell'ambito sociale come aveva fatto la gioventù femminile e noi riconosciamo che le prime donne sindaco d'Italia e alcune delle donne della costituente escono proprio dalla gioventù femminile perché questa formazione che Armida aveva saputo trasmettere attraverso lo studio, attraverso la ricerca, attraverso la fondazione di tantissimi giornali che accompagnavano il cammino delle donne in tutta Italia ripeto in tempi non facili, fra due guerre mondiali, quando l'Italia rimane anche divisa in due nel periodo dell'avvento del fascismo, permette alle giovani e alle donne italiane di avere consapevolezza di sé di poter essere protagonista e soggetto della vita sociale, politica e ecclesiale del tempo. Per chiudere Barbara abbiamo intuito dalle sue parole che Armida Barelli oltre ad essere un modello di santità perché lo ricordiamo è stata proclamata beata lo scorso anno e dunque è anche un modello di vita vissuta per i giovani e in generale poi allargando lo spettro anche per le donne, anche per le donne non credenti. Quello che le vorrei chiedere appunto per chiudere è che cosa questa figura di Armida Barelli oggi può dire alle donne, ai giovani e giovani che sono in ricerca anche di un senso nella loro vita? Credo che possa trasmettere davvero una parola di speranza e soprattutto credo potrebbe dire non accontentatevi, sono parole sue, di vivere alla buona ma ponetevi degli ideali grandi per lei questi ideali grandi erano la santità, l'amore, l'impegno. Trovate un senso alla vostra vita osate cose grandi, osate il futuro, abbiate il coraggio di andare oltre i luoghi comuni e alla luce dell'esperienza della fede ma anche dell'esperienza umana di poter in qualche modo osare davvero il futuro, osare davvero sognare in grande, avere una visione più ampia di quella che spesso ci viene trasmessa. Non lasciatevi direbbe Papa Francesco rubare la speranza rubare il futuro. Ecco Armida Barelli lo diceva al suo tempo, alle giovani, agli uomini, alle donne del suo tempo, se Dio vuole questa cosa si può fare, si può realizzare. Noi siamo chiamati a metterci tutto il nostro impegno e questo impegno dà senso e significato alla nostra vita e dà un senso di pienezza, di bellezza e di gioia alla nostra esistenza. E allora io ringrazio Barbara Pandolfi, vice postulatrice della causa di beatificazione e canonizzazione di Armida Barelli per averci tratteggiato davvero con passione questa figura straordinaria che davvero ha tanto da dire che andrebbe approfondita in ore e ore di trasmissione. Noi abbiamo provato ecco a condensare alcuni aspetti fondamentali in questi pochi minuti all'interno della nostra diretta. Grazie Barbara per essere stata con noi. Grazie a voi. E noi ora ci fermiamo per la pubblicità e pochi istanti di pausa e poi ritorneremo ancora qui in diretta. Restate con noi.